ciao Piero e bentornato i nostri microfoni questa volta in una maniera un po' differente vabbè ormai ci siamo abituati anche a questi collegamenti da lontano per fortuna che l'importante è far circolare le idee assolutamente assolutamente e l'importante è che far circolare la musica anche perché uno dei pochi se possiamo chiamarli live di quest'estate è stato il tuo al lunezia ho avuto modo di ascoltarti comunque dal vivo posso dire così sì l'estate scorsa purtroppo ho patito come tutti gli amici musicisti italiani questo terribile momento e sono riuscito a fare solamente due concerti che probabilmente non sarei mai riuscito a fare normalmente cioè un concerto all'alba anzi prima dell'alba vicino a Lecce in una zona archeologica meravigliosa con una band jazz con con le mie canzoni completamente riarrangiato una cosa veramente unica e molto bella fui contattato da 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 giuliano san giorgi per l'occasione lo ringrazio per questo e poi il lunezia poi basta no e poi aspetta c'è stato il mei per fortuna però anche il mei quindi ho fatto tre piccole cose però sai quando c'è un disco nuovo appena uscito dopo sanremo e succede quello che è successo un anno fa facca voglia anche perché fuggì di fragile un disco che assolutamente merita di essere suonato merita di essere ascoltato in quella che la dimensione live io fin dal primo ascolto non sono immaginato sul palco ti ringrazio anch'io ero prontissimo a farlo ora speriamo che quest'estate se si allenti un po questa morsa ma è anche diciamo un po per questo senso di frustrazione che ho cominciato a scrivere il romanzo e prendiamo il buono da ogni situazione diciamo che il lockdown è quello che mi ha scatenato la voglia di scrivere in prosa e non più solo in versi e quindi questo romanzo è nato così se non ci fosse stato il lockdown non sarebbe uscito questo questo libro il romanzo che tra l'altro è prima di tutto un invito non perdere quell'entusiasmo quello stupore di un bambino credo che sia un messaggio importante anche in un momento come questo sì assolutamente bravo e lo dico a un certo punto anche se avessi perso il bambino che c'è in me probabilmente non avrei mai fatto niente di buono nella vita e questo è un grande invito a per chiunque insomma a non perdere mai comunque quella voglia di stupirsi quello stupore naturale che deriva dal fatto di di non di non credere di aver già visto tutto di avere già vissuto tutto non è facile diciamo perché dopo 40 e quasi uno anni di attività nella musica effettivamente potrebbe venire spontaneo di dire vabbè ma questo l'ho già fatto quell'altro l'ho già approvato quello l'ho già scritto eccetera e invece diciamo che la ricerca di nuovi nuovi tentativi di scrittura compreso la prosa insomma in una forma quasi più romanzesca come questo come questo libro sono delle sfide nuove per quello che mi riguarda che accetto che mi sono lanciato da solo che per fortuna giunti ha avuto la voglia e la forza di di sostenere insieme a me e ringrazierò sempre per questo e e poi c'è rimane comunque anche la scrittura musicale perché io sto continuando a scrivere cose che potrebbero prendere forme inaspettate fino ad ora nel mio nel mio panorama musicale spero di di riuscire a svilupparle al punto giusto e poi da potervela anche presentare un aspetto che mi ha colpito molto del libro è proprio il tuo rapporto con il passato comunque una volontà anche di celebrare quello che è stato un certo periodo ma senza nostalgia semplicemente per poterlo raccontare anche per poterlo rivivere sì io sono un po più iconoclasta un po meno celebrativo se vuoi è un po più come dire un prendere coscienza delle proprie radici che è una conseguenza del lockdown perché ho avuto un po più di tempo per non essendo stato in giro ho avuto più tempo per stare con la mia famiglia e ho obbligato soprattutto mia madre che ancora una una forte lucidità una grande memoria a raccontarmi tutta una serie di storie che fanno parte dell'appunto del passato della mia famiglia ma che mano a mano che ho incominciato a raccogliere poi a riscrivere e a romanzare ho visto dalla reazione degli editori che potevano assumere anche un po come dire il significato della storia sì di due famiglie ma anche un po di un paese di un secolo di tutto quello c'è chi non ha avuto un nonno fascista che non ha avuto un nonno partigiano che non ha avuto un bisnonno che ha combattuto nella prima guerra mondiale chi non si è vissuto il boom economico chi non ha vissuto gli anni 80 e gli anni 90 in un certo modo e quindi tutto questo fa parte di quello che gli americani chiamano background e che per me è il vissuto il dna sono le radici e da cui poi derivano anche derivata anche la mia forma di scrittura nella musica ma assolutamente sì ma sono tanti gli aspetti che mi hanno colpito per esempio una frase fatti non posti a vivere come brutti ma per servir virtute e canascenza una frase che ti ha cambiato la vita da un certo punto di vista decisamente sì e tu ti stai riferendo lo dico per chi ancora non ha letto il libro è un momento fondamentale della mia vita e cioè quando con mio fratello andrea bambini giocavamo con i fucilini ce li puntavamo sulla faccia simulando di sparare ma mio nonno mario che era un ragazzo del 99 erano quei ragazzi che appena maggiorenni furono mandati a combattere durante alla fine della prima guerra mondiale sui fronti del piave del carso dove è stato poi anche ungaretti il grandissimo ungaretti mio grande maestro di scrittura sulle ardenne sulla marna e questi ragazzi noi magari lamentiamo che le nostre adolescenze siano state problematiche ma proviamo a immaginare cosa deve essere stato per un diciottenne essere sbattuto dalle campagne italiane all'inferno delle trincepe con i bombardamenti gli attacchi corpo a corpo con la baionetta con ragazzi della stessa età che erano nati solamente al di là di una frontiera quindi mio nonno mi ha inculcato con quella frase con i suoi racconti sulla guerra mi ha inculcato la mia grande appartenenza alla all'obiezione di coscienza al pacifismo e alle e indirettamente anche un po l'ambientalismo certo che poi appunto ti sei portato per tutta la vita così come io ho trovato come punto di svolta di quello che può essere appunto il tuo percorso anche la tua volontà di iscriverti all'istituto d'arte com'è andato in quell'occasione ma è andata che che non contavo un cazzo perché i miei hanno deciso di mandarmi al liceo classico io volevo fare l'istituto d'arte volevo fare l'artista e mi hanno sbattuto invece nel nell'inferno di dante anche perché il liceo si chiamava proprio dante soprattutto i primi tre anni più duri li ho passati proprio in un liceo che si che era dedicato al grande dante e da cui per anni di cui per anni ho stramaledetto l'esperienza onestamente l'ho stramaledetta perché ho passato un'adolescenza di merda da cui poi tutta la mia rabbia la mia incazzatura quando ho incominciato finalmente a suonare e solo col tempo ho capito poi che tutta quella sofferenza tutta quella privazione tutto quello studio coatto in realtà mi sono serviti dopo per capire che il sacrificio è un po alla base di tutto per raggiungere degli obiettivi almeno questo l'ho questo l'ho capito cioè due mi sono voluti anni per capirlo però dal momento in cui l'ho capito ho detto ah ecco perché mi sono così abituato a che so lavorare 14 ore al giorno sulla musica o su una tournée sulla scrittura in studio a fare a fare promozione anche perché anche fare promozione è un lavoro molto faticoso ecco piacevole ma faticoso e quindi una cosa che sicuramente ho imparato è stato proprio quello di diciamo spaccare l'infinito anche quando l'infinito sembra una grande montagna di merda assolutamente appunto tutte queste sono esperienze che poi ti hanno portato a essere artista e anche a creare tutta quella musica che comunque ricordiamo non serve sono passati 40 anni ma diciamo che l'attualità la si può ascoltare in ogni singola nota in ogni singola parola ancora oggi ma io ti ringrazio di questo mi inorgoglisce ecco l'orgoglioso io si cosa faccio zaya che sbaglio tutte le parole quella roba lì comunque tornando invece al libro ma c'è stata una sezione che hai fatto particolarmente fatica a scrivere diciamo un po tutto soprattutto all'inizio che non sono abituato a scrivere in prosa meno che mai terza persona meno che mai in forma di romanzo avevo fatto due autobiografie prima insieme a massimo cotto questa volta invece anche un po complice lock down ho cominciato da solo a scrivere ho detto l'ho fatto per disperazione per necessità e detto ci vuole una forma diversa però questa volta questa volta quindi la terza persona quindi il gioco tra i tempi remoti imperfetti presenti per anche per cercare di abbattere quei muri generazionali tra l'esperienza ad esempio di mio nonno in trincea e il mio essere pacifista e scrivere il mio nome mai più o scrivere bomba boomerang o guerra o ferito ecco tutte canzoni antimilitariste pacifiste unificare l'esperienza da bambino con i miei genitori che mi facevano raccogliere le plastiche lungo i sentieri le spiagge e portarli al presente insieme a greta thunberg di picnic all'inferno ecco è stato un grande esercizio di anche se vuoi di di stile gli editori sono stati mi sono stati molto vicini sarò molto grave mi ha colpito anche nella dedica quando scrivi ai bulli perché noi siamo più forti come mai perché come dico nel libro ho subito bullismo in moltissime occasioni spesso proprio per le mie scelte anche di scelte di vita diciamo per natura mia mi viene di essere spesso fuori dal coro e anche in epoche storiche in cui si viveva forse più libertà di oggi parlo degli anni 70 e 80 ma soprattutto gli anni 70 che sono quelli un po più della formazione quando le varie tribù giovanili si suddividevano più o meno in gente col parkas di sinistra gente col giubbottino rasati di destra gente vestita anonimamente cattolici e e pochi altri io ero un'altra cosa da tutti questi soprattutto nella nella borghesissima e ben pensante firenze di quegli anni e quindi da lì ho incominciato sono un grande incassatore io sono un grande incassatore però sempre incassato molte molti epiteti rispetto al mio modo di essere nel libro c'è anche la lista di tutti questi nomi e va bene cioè fanno parte anche questi qui in qualche modo diventano un po come dico anche nel libro quel grande e simbolico vestito di arlecchino che è un grande patchwork di stoffe raccattate a destra manca e arlecchino dal teatro dell'arte italiano è un mio grandissimo punto di riferimento almeno quanto iggy pop chiero io non posso che ringraziarti è sempre un piacere chiacchierare con te e questo è un libro che secondo me aiuta anche a ricostruire la storia di un certo periodo storico quindi è consigliatissimo 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 bene ti ringrazio e poi magari ne riparleremo anche in altre occasioni io mi auguro davvero ci sia occasione molto presto grazie ciao ciao a tutti